bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft signori io sono maullo941 e oggi ripartiamo per una nuova avventura signori intanto prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per gli suggeriti e per il supporto che date alla serie e al canale vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno io ce la sto mettendo tutta signori sono da 80 giorni e più che pubblichiamo video e andiamo avanti in questa avventura e tutto però dipende da voi signori, tutto dipende da voi e dal supporto che date alla serie e basta semplicemente mettere un bel click sul like, un bel click sul segui e stiamo tutti contenti signori e stiamo contenti voi e sono contento pure io allora, cosa facciamo nel video di oggi signori? nel video di oggi prendiamo il nostro lettuccio, il nostro piccone con silk touch ce l'abbiamo il cibo ce l'abbiamo, questa netherrack non ci serve un cacchio la buttiamo velocemente come avrete capito dal titolo andiamo a cercare le tartarughe signori dopo le avventure di ieri che ci hanno portato a trovare il portale e a tornare a casa sani e salvi oggi ce la prendiamo un po' più di relax e andiamo a cercare le tartarughe signori almeno una da mettere dentro il nostro acquario ci porteremo anche qualche altro secchiello perché voglio popolare un pochino di più questo acquario che è un pochino, un po' scarno signori, un pochino, un pochino scarno sì, un'avventura un po' più soft, un'avventura un pochino più soft facciamo altri due secchielli direi, sì, sì, altri due li facciamo qualcun altro ce l'abbiamo nella cesta guarda, giusto un pochino di ferro me lo porto in più il carbone ce l'abbiamo ma non ci serve il letto ce l'abbiamo va bene, penso che abbiamo tutto il cibo ce l'abbiamo se abbiamo un elmetto dorato che non ci serve assolutamente a nulla quindi mettiamolo in stand by che ci servirà per le prossime avventure signori perché se non troviamo il nostro carissimo dove cazzo lo dobbiamo mettere i nostri carissimi enderman non abbiamo che cosa fare allora vedo un attimino qual è la direzione del portale perché andando verso il portale della fortezza del nether c'era tornando ho visto una bellissima spiaggia con le tartarughe signori purtroppo non avevo il piccone silk touch in quel determinato video e non ho potuto recuperarle in quella situazione ma oggi ci avventureremo in quella direzione e andremo a cercare le tartarughe torneremo a casa con delle tartarughe sì, almeno una la voglio almeno una la voglio va bene signori diciamo che più o meno la direzione dovrebbe essere tutto dritto di qua più o meno tutto dritto di qua o leggermente sulla destra non dobbiamo assolutamente perdere il nostro senso dell'orientamento non dobbiamo raggiungere il portale a 3000 blocchi signori spero di arrivare anche un poco più questi alberelli sono fermi di qua dai primi episodi signori dai primi episodi che li abbiamo piantati sono ancora fermi così perché giustamente non caricando i shank noi ci allontaniamo sempre di più rispetto a questa zona questi alberelli non sono mai cresciuti forse dai primi 10 episodi ora non ricordo da quanto attenzione al tuffo al tuffo maullo tuffo doppio carpiato con salto angolare bellissimo voto 10 10 grazie grazie allora però abbiamo fatto l'errore più grosso che potevamo fare è quello di non portarci una barca brava la testa di 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 non diciamo cosa signori non diciamo cosa ma voi avete capito voi avete capito voi siete voi siete intelligenti voi avete capito e non diciamo testa di cosa perché non è giusto ma partiamo all'avventura signori l'obiettivo è trovare la spiaggia con le tartarughe che io l'altra volta ho trovato ho trovato ora non so se riusciremo a trovarla anche quest'oggi però 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 allora in uno dei prossimi video signori pianteremo tanti di questi funghi rossi in una zona della mia casa volante che porca miseria di avesse tutto bello pieno come se non ci fosse un domani di questi funghi rossi mi fanno schifo a me i funghi nella vita reale nella vita reale a me i funghi mi fanno cacare gusti miei personali attenzione ogni cosa è soggettiva magari la maggior parte delle persone i funghi piacciono a me non mi piacciono però 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 questi così grossi mi mi intrigano fanno colore uno bello alto grosso mi piace mi piace dobbiamo anche portare i maialonzi nella nostra base dobbiamo trovare le enderpearl signori l'obiettivo principale è che non dobbiamo dimenticarci di trovare le enderpearl perché ce ne servono 6 che poi una volta che passi da quel lato e vai a ammazzare il drago c'è tutte le enderpearl del mondo ma per poterci andare porca miseria su di 8000 camicie per trovare quelle enderpearl di M in tutto questo dovremmo anche aggiornare la serie di minecraft perché io sto ancora giocando alla 1.19 signori ebbene sì insultatemi pure ma sto giocando ancora alla 1.19 nonostante la 1.20 ormai sia uscita da più di un mese quello è uno squid sì quindi qui tartarughe non ce ne stanno da più di un mese ma noi siamo ancora fermi alla 1. questi sono pesciolini normali sì ne vogliamo prendere due tutti questi non ce li ho io ehi ehi bei pesciolini venite qua venite qua venite no si vabbè mi sta riempi tutti i secchi d'acqua porca miseria porca si mettono un pesce dentro mettici un pesce dentro ok bello così dove stanno gli altri merruzzi merruzzi non avevamo nel nostro acquario sbaglio no merruzzi non abbiamo nel nostro acquario sciappalo 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 ma porca miseria perché mi devono fare mi devono fare mi devono fare dai sciappalo l'ho preso? non ho preso un cacchio pesciolini di merda dai sali 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 ti piglia il volo ti piglia il volo ok due ce l'abbiamo il detto dice non c'è due senza tre il respiro ce l'abbiamo sì pigliamo il terzo merruzzetto accelerazione cosmica tu siete merruzzetti? sì ti ho preso? no no ho buttato l'acqua sto scemo me lo pigli sto merruzzo ok perfetto signori abbiamo tre merruzzi mi bastano e mi avanzano ora dove è la nostra barca? là regoliamo la nostra barchetta abbiamo altri tre pesciolini da mettere nel nostro acquario signori non è male non è male dobbiamo popolarlo il nostro acquario mi piacerebbe tantissimo a metterci uno squib un polipetto ma purtroppo penso non si possa fare decisamente no allora noi dove cazzo la venivamo è da là quindi andiamo dritti ancora di qua leviamo un attino da questa zona di qua i pesciolini che decisamente non ci serve mettiamo un secchio d'acqua sempre qui pronto a disposizione trovassimo anche altri pesci tropicali dico non mi farebbe schifo però signori qua c'è del kelp che non si sa perché è fermo lì là sono tartarughe vedo della sabbia ci sono delle tartarughe chiedo per un amico ci sono tartarughe lì quella è una tartaruga signori attenzione più facile del previsto fermi tutti fermi tutti allora fermi tutti abbiamo due tartarughe fermi tutti subito datemi qualcosa che loro utilizzano per riprodursi datemi datemi questo ma io se faccio così si rompe si porca miseria sott'acqua devo farmi una cesoia ora trovate uno che sott'acqua sa fare una cesoia signori e ne ha 8000 a casa dai così dai così due mi bastano ma l'ho presa due perfetto bello così bello così dai 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 tartarughe siete le protagoniste di questo video tartarughe sì magari evito tartarughe ok mi fate andare in una zona in cui io magari tocco bene venite anche qui voi te questo e a te questo dai fate quello che dovete fare io metto il mio bellissimo lettuccio qui avete tutto il vostro tempo a disposizione fate hanno fatto hanno già fatto ma sono state velocissime cioè noi ci conosciamo hanno già da un bel po' perché dico sono state veramente veloci allora teniamone sott'occhio quella fa l'indifferente ma penso penso di sì penso quella se ne sta andando verso quella sta puntando la sabbia questa è una cosa buona dai dai zia dai zia impazzisci impazzisci zia impazzisci come solo tu sai impazzire quella è sparita l'abbiamo presa al volo praticamente della tartaruga ok ok signori taglia così taglia così noi ci facciamo una bella dormita mentre loro fanno quello che devono fare dai così dai dai allora non le prenderemo tutte anche perché non ci servono tutte uh ma sono troppo veloce sono state ma sono solo due zia me ne date solo due e io me ne pio tutte e due scusami è un peccato sono fratello e sorella che fare lasci qui ok uno e ok due rapido veloce in dolore grazie zia gentilissima allora recuperiamo anche il letto scusa per due tartarughe per due che fai le lasci qua poverine so fratelle e sorelle recuperiamo un po' di sabbia che non so se ce l'ho a casa perché giustamente dovremo fare una piccola colonna di sabbia per le nostre tartarughe se no do cazzarughe mettiamo le tartarughe nell'acquario eh anche anche la bc signori anche la bc faremo una piccola isoletta nell'acquario molto brutta ma la faremo la faremo decisamente si decisamente si recuperiamo la nostra barcozza retromarcia senza far danno a nessuno e torniamo in quella direzione che dovrebbe essere la direzione di casa la direzione è stato più veloce io ho pensato dovessi farmi chilometri e chilometri invece invece è abbastanza veloce pratico rapido e veloce buono buono così buono così ora ti taglio questa parte di ritorno a casa perché se no stiamo a parlare sempre del nulla cosmico ci vediamo quando siamo sono a casa signori a parte così evitiamo anche i bug terribili così c'è là sotto wow evitiamo i bug terribili e con calma poi facciamo quello che dobbiamo fare ok signori siamo a casa siamo a casa ho recuperato altri tre salmoni lungo il taggetto di ritorno così quantomeno mettiamo altri pesciolini anche nell'acquario non sono quelli tropicali come mi sarebbe piaciuto però di necessità si fa a virtù signori non si può avere tutto allora come ci organizziamo allora io intanto direi di salire con la terra si terra mi basta e mi avanza saliamo un pochino con la terra fino al punto in cui possiamo io vorrei metterlo qui il nostro la nostra zona magari senza cascare subito ok e riesce a scendere ok mettiamo la sabbia posso fare due blocchi si posso fare due blocchi quindi direi di fare tipo così ok così ci siamo sì perfetto dov'è aspettate prima liberiamo i pesci che ok altri tre salmoni per noi e anche altri tre di questi che non mi ricordo che cazzo ah i merluzzi che non avevamo nel nostro nel nostro acquario doghede doghede e doghede perfetto il nostro acquario per piano piano sta prendendo sempre più video guardate che sono contenti i salmoni che sono contenti ci mancano i pesci tropicali dobbiamo aggiungere i pesci tropicali e mettiamo anche le nostre due bellissime uova ne mettiamo una qui e una qui signori perfetto quando decideranno di schiudersi si schiuderanno e noi avremo anche le nostre uova le nostre tartarughe nel nostro acquario signori abbiamo tre blocchi di questo sì perfetto richiudiamo tutto uno tre due e tre scendiamo da questo blocco di terra che abbiamo preso prima che abbiamo fatto prima per salire perfetto così giustamente le nostre uova non si vedono ma voi che avete seguito il video sapete perfettamente che dietro di me in quella colonnina di sabbia che abbiamo fatto ci sono le nostre tartarughe signori che un giorno che un giorno si schiuderanno e avremo anche le tartarughe che viaggiuranno nel nostro acquario signori ecco così si vedono aspettate facciamo così così riesco a fare bene la copertina beh abbiamo anche le tartarughe signori detto questo vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per il suggine e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao ciao